Il Milan senza dubbio ha passato il turno di Coppa Italia senza troppe problematiche. D'altronde l'avversario di turno, la regina, si è presentato a San Siro con molte seconde linee. E quindi per campioni dal calibro dei rossoneri non vi è stato grande problema. C'era una ciascità del Gosbrook a partita che è arrivato al 51esimo con un cross pennellato di Manuelsson per la testa di Mario Iepes. Quindi ci sarà una bellissima sfida con la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia. Se preferite chiamarla TeamCup.